Di che cosa parliamo? Parliamo di migliorare soprattutto la trasparenza delle etichette, la possibilità che la gente non sia indotta a consumare cose di cui non è consapevole e quindi le piccole furbate che vengono fatte all'interno dei punti vendita e non si può rinviare tutto alla responsabilità della produzione perché le aziende produttrici hanno accesso alla grande distribuzione, quindi ai punti vendita soltanto tramite un accordo. I responsabili di quello che avviene all'interno del punto vendita è esclusivamente il punto vendita, non può essere rinviato alle aziende. Quali sono i punti caldi? Soprattutto la possibilità di avere una trasparenza sul prezzo unitario per esempio che è messo in caratteri fuori dimensione rispetto alla possibilità di essere confrontati. Il prezzo unitario è una cosa importante perché consente di confrontare i prodotti fra di loro. A volte le grammature sono completamente diverse e quindi i prezzi sono completamente diversi. Tutte le linee del nuovo marketing dicono che il rapporto diretto con l'utente sul territorio, con i consumatori sul territorio, è fondamentale per la concorrenza. Cioè vince la concorrenza chi meglio si rapporta con il cittadino. Bene, la trasparenza, la sicurezza dei prodotti, non essere indotti in tentazione di acquisto non avendo le carte in regola mi sembra assolutamente adeguato.